Fra due giorni a Sanremo sarà festival e allora è vietato steccare. La Lucchese vuole punti pesanti per non rischiare di perdere contatto dal Prato. Monaco rilancia l'ICI e recupera Benassi e Bartolomei, per il resto la squadra annunciata. Splendida coreografia dei tifosi della Lucchese che suggeriscono sola non la lascio mai. Avvio di marca Ligure con la Sanremese che spinge forte nei primi minuti. Lucchese tuttavia velenosa nelle ripartenze, al 17 ci prova Vignali. La partita è equilibrata e il gioco spesso ristagna l'altezza delle due tre quarti, di occasioni pochine per non dire nulla. Subito dopo la mezz'ora però la Sanremese si porta in vantaggio grazie ad una rete di Gagliardini. Lucchese sotto è partita che si complica anche perché la Pantera non brilla. In avvio di ripresa Monaco inserisce forze fresche e cambia addirittura tre uomini. Al tredicesimo la Lucchese perviene al pareggio col solito indomabile Meucci che fa centro con un gran tiro dal limite. Ora la Lucchese ci crede. Biteb avrebbe il pallone del vantaggio ma se lo divora per la disperazione dei tifosi rossoneri. Ancora Biteb vicina alla rete del 2-1 che darebbe alla Lucchese il primato in classifica. Riscano anche i rossoneri. Spinosa sfiora la rete con quello che avremmo definito un euro-goal. A due minuti dal novantesimo Nannelli, anche oggi uno dei migliori in campo, porta in vantaggio la Lucchese ritrovando la via della rete dopo un girone intero. E la fa con un gol davvero bellissimo. Quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia. Con uno splendido e spettacolare secondo tempo la Lucchese vince 2-1 anche a Sanremo. E grazie al pareggio del Prato conquista la testa solitare della classifica. E domenica prossima al Porta Elisa arriva il Casale, terza forza del campionato.